Orse giunta, anima fella. Giunto alle soglie della città di Dite, Dante deve affrontare la feroce resistenza delle forze demoniache, in un crescendo di eventi drammatici che si succedono nell'ottavo e nel nono canto. Ancor prima di arrivare ai piedi della torre che presidia la palude Stigia, i due poeti assistono ad uno scambio misterioso di segnalazioni luminose con un'altra fortezza, che a malapena si intravede di lontano, nella buia atmosfera infernale. D'improvviso compare la veloce imbarcazione di Flegias, il traghettatore della palude, che scambia Dante per un dannato e luminaccia. L'intervento di Virgilio placa il nocchiero, che imbarca ai due poeti e si accinge a riattraversare il pantano. Nel corso della traversata uno dei dannati immersi nel fango, i Racondi, si avvicina all'imbarcazione con Piglio minaccioso. Dante lo riconosce e lo spirito infuriato afferra il bordo della barca. Virgilio deve intervenire per rincuorare Dante e respingere il dannato nella palude. Si tratta di Filippo Argenti, un fiorentino violento e orgoglioso, che in vita aveva aderito al partito dei neri e con la sua famiglia aveva umiliato gli alighieri. Dante, sdegnoso, manifesta il desiderio di una giusta punizione per l'Argenti, che subito viene assalito e straziato dagli altri Racondi, condannati per l'eternità ad azzuffarsi nel fango. Mentre osservano il fiorentino mordersi per la rabbia, i due poeti odono un grande lamento, che proviene dalle mura infuocate della città di Dite, ormai ben riconoscibili davanti a loro. Sulle mura e sulle porte si agitano migliaia di diavoli, descritti nelle forme popolari del Medioevo. Dopo aver navigato attorno alla fortezza, Flegias sbarca i due poeti davanti all'ingresso. I diavoli minacciano il temerario mortale, che ha osato avventurarsi nell'inferno, e invitano Virgilio ad abbandonare il poeta al suo destino. Dante è terrorizzato, e invita la sua guida a riaccompagnarlo fuori dagli inferi, temendo il peggio. Il poeta latino decide allora di avanzare da solo, per convincere i diavoli a concedere il passaggio. Ma la resistenza diabolica è più forte del previsto. Le porte della città si chiudono davanti a Virgilio, che per la prima volta ammette il fallimento della sua mediazione. Chi ma negate le dolenti case. Dopo un attimo di sconforto, Virgilio riacquista fiducia, e annuncia l'imminente arrivo di una misteriosa forza benigna, che sta già attraversando la valle inferna. L'ottavo canto si chiude come sospeso, con l'attesa di ulteriori eventi, gli atti conclusivi di una sorta di sacra rappresentazione medievale dello scontro eterno tra il bene e il male, e dell'immancabile vittoria di Dio. E già di qua da lei discende l'erta, passando per gli cerchi senza scorta, tal che per lui ne rifia la terra aperta.